14esima tappa del Giro d'Italia, una nuova occasione per i velocisti? Saranno 194 km da Sierre a Cassano Magnago. I primi 35 km sono pianeggianti sostanzialmente, ma poi inizia il passo del Sempione, vero e proprio spartiacque di questa giornata di corsa. Sono 20 km, pendenza media del 6%, ma i primi 8 sono i più duri, anche al 7, 8% di pendenza media. Da lì, lunga discesa verso Villa Dossola, dove è posto il primo traguardo volante, secondo traguardo volante a stresa e poi dritti fino all'arrivo. Poche le difficoltà altimetriche, nel finale attenzione perché la strada nell'ultimo km tende a salire, indicativamente tra il 3 e il 5%, non sarà quindi uno sprint banale e scontato. Alcuni velocisti in questi giorni si sono dovuti purtroppo ritirare, ma quali rimasti possono provare a giocarsi le loro carte a partire da Jonathan Milan e Michael Matthews che potrebbe puntare ad una corsa più dura proprio sul passo del Sempione. Ma se andasse una fuga, anche questa è una possibilità, sperando che la tappa non venga cambiata nel suo svolgimento, con tutto quello che sta succedendo in questi giorni a livello meteorologico, al Giro d'Italia non solo.